Mirko Carretta è il primo acquisto ufficiale del mercato estivo del Perugia. L'esterno offensivo classe 90 ha firmato poche ore fa un contratto biennale che lo lega alla società di Santo Padre fino al 30 giugno 2023. Inizia con il botto quindi la campagna di rafforzamento del direttore sportivo Giannitti che piazza subito un colpo importante. Un giocatore che conosce benissimo la categoria 129 presenze e 17 gol in Serie B e che rappresenta un jolly offensivo di livello per il neotecnico Massimiliano Alvini. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili delle Gallipoli squadra della sua città natale la carriera di Carretta si è poi sviluppata nelle file di Matera, Fidelissandria, Benevento, Barletta, Martina e nuovamente Matera. L'esordio in Serie B lo ha fatto con la maia della Ternana nella stagione 2017-2018 durante la quale ha collezionato 35 presenze e messo a segno ben 7 reti. Dopo Terni la parentesi con la Cremonese e poi la proda a Cosenza nell'estate 2019. Con il rosso-blu ha totalizzato in due stagioni 64 presenze in campionato condite da 9 reti e 7 assist. E adesso inizia per lui una nuova avventura con la maglia bianco-rossa del Grifo. Intanto giovedì 8 luglio prenderà il via la stagione 2021-2022 del Perugia con le tradizionali visite mediche pre-raduno. Poi dal 12 al 24 luglio la squadra si trasferirà in ritiro in Toscana a Pieve Santo Stefano dove alloggerà presso l'hotel Santo Stefano ubicato a pochi passi dal centro storico del paese e si allenerà allo stadio comunale Egidio Capaccini. Tornando al mercato si attendono novità anche sui rinnovi di contratto, su tutti quello di Salvatore Monaco che nel frattempo si gode la vacanza ad Ibiza con il compagno di squadra e amico Aleandro Rosi, tra palleggi, spiaggia, allenamenti e qualche tuffo non proprio da 10.